Ciao a tutti ragazzi, come va? Noi siamo molto molto bene e speriamo che anche voi siate bene Io sono Relecca, io sono Anna e questo è il nostro canale Allora, questo sarà un i-mai e abbiamo le domande sul telefono che ci avete fatto su Instagram intanto andateci a seguire qui i profiloati e qua il profilo condiviso il nostro profilo e niente, possiamo iniziare Avete mai montato a pelo? Allora, io sì anche io però al passo certo questo è stato Hai mai montato al contrario? No Cosa vuol dire? C'è tipo seduto così C'è al contrario? Ah, no Siamo persone normali Lo so che non è mai C'è una ragazza che si iscrive Lo so che non è mai mai Ma quante volte siete cadute? Allora, io zero Allora, io In quattro anni ho fatto Allora, una Su Penelope Poi Due, tre Quattro Poi sei o sette cadute Perché in questo periodo Sono caduta molte volte Da Lily's Way Cioè A gennaio A febbraio Io facendo cavallo da un M&M Non sono qua Io con un pony Sono caduta perché si era spaventato E io no Perché sono più brava Allora, prossimo e mai Hai mai usato un filetto tanto Da spaccare la bocca A cavallo? Allora Lei no perché Ha sempre usato filetti No Allora, nel senso Sì Cioè Mi sono resa Mi sono resa conto Che a volte Ho tirato Un po' troppo Però Il più Più duro Non lo so come dire Il più duro Che ho usato È stato il Pessoa Quindi nemmeno tanto Quindi nemmeno tanto Allora Io All'inizio C'è un po' una cosa strana Perché I vecchi proprietari di Lisboa E quelli di Lisboa usavano Il Pelam Che diciamo che è un morso abbastanza forte E che per un pony così piccolo Di 6-7 anni È molto forte E anche quando montava la mia messa Per sgrillargli Mi faceva troppo Cioè per sgrillargli Per tipo Se io cadevo E non faceva un po' lo stupido Cioè Se davanti eroni Mi faceva male Quindi dopo aver cambiato Un po' di filetti Di morsi Adesso usiamo il filetto Cioè il Pessoa E basta Prossimo Hai mai montato Con il sottosello Al contrario? No Non mi è mai capitato Cioè A volte lo metto al contrario Poi non mi è capitato Di montare Anche a me Allora Hai mai urlato Mentre andavi a cavallo? Sì Allora noi due siamo le collezioniste Di mamma Perché abbiamo paura Allora Non mi è capitato Una volta Quando ho saltato Cioè Ho saltato un po' più alto Sì 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 È stata tipo la sua prima novanta Ecco E praticamente lì Allora io ho preceduto Lì le ha fatto un salto enorme E quindi ho tipo Fato Aaaaa E basta Poi basta Poi l'ho rifatto E è venuto bene Però All'inizio ho tirato Una di quei mie urli No Io invece L'altro giorno L'altro giorno No io invece Tipo Noi di solito Dopo la lezione Al mercoledì Quando stiamo solamente Noi due La nostra istruttrice Andiamo sempre a fare Giretti dietro O nel campo in erbo Sì E praticamente Io stavo per investire La mia istruttrice Tipo Io continuo a lavorare Eeeh Così Chi è? Tessila Uuuu Isa Stai ferma Uuuu Avete mai pensato Di mollare Il mondo dell'equitazione? Sì Io Non ho mai Sinceramente mai Non mi è capitato Quante volte ho detto Mai Non lo so No però A me sì No A me no Cioè Nel mio momento Tipo Mollo Cioè Se mai a volte Avevo un po' di paura Perché dopo una caduta Avevo un po' Però Cioè Non ho mai detto Mollo Mai Per il momento No Io purtroppo sì Per ragioni private Hai mai Non ho scritto Hai mai Aspettate Ragazzi Non capiamo Cosa c'è scritto Perché Comunque C'è scritto Hai mai Montato Guardando il telefono Non si va Ragazzi Non si va 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 Hai mai urinato Nel box Nel tuo cavallo Sì Tantissime volte Sia in gara Che No Forse nel maneggio No Sono in gara Perché A me fa un po' schifo Andare nei Dei bagni Che ci sono in gara Quindi Sì Tante volte Perché anche io Abbiamo urinato Hai mai perso qualcosa in gara? Sì Io Cioè Sì Non ci vuoi Che mi è in gara No io no Però il maneggio Si hai perso qualcosa Poi una volta Ti ho detto Il fruttino Un cane Un cane Mi ha mangiato Un fruttino Anche a me Quel cane Niente ragazzi Il video finisce qua Niente ragazzi Il video finisce qua Noi ci vediamo Prossimamente Con un altro video Ne escono due Ne escono due La settimana Se non riusciamo Se no uno Quindi attacca E niente Lei morta Io basita Possiamo finire questo video Ciao Ciao